Gli Stati Uniti e i loro alleati della Nato continuano a pompare armi in Ucraina, prendo atto che qualsiasi trasporto dell'Alleanza Atlantica che è arrivato nel territorio del paese con armi o materiali destinati alle forze armate ucraine è da noi considerato legittimo bersaglio di distruzione. Il flusso di materiali verso l'Ucraina continua ogni singolo giorno e non posso e non parlerò di potenziali operazioni future in Ucraina. Non lo farei anche se ne stessimo discutendo e non lo stiamo facendo. Stiamo parlando di una guerra in cui non stiamo combattendo. Non ci sono accordi su un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il Papa. Giappone e Italia sono impegnate perché si arrivi il prima possibile a tregue, anche localizzate, per permettere le evacuazioni di civili e favorire i negoziati di pace. Oggi affrontiamo la nostra dipendenza dal petrolio russo. E sia chiaro, non sarà facile perché alcuni stati membri dipendono fortemente dal petrolio russo, ma dobbiamo semplicemente farlo. Quindi, oggi, proporremo di bandire tutto il petrolio russo dall'Europa. Buongiorno cari telespettatori, avete sentito le parole di Ursula von der Leyen, avevamo anticipato tutto questo ieri mattina. La Presidente della Commissione europea aveva lanciato la proposta per il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia, il cui punto forte era lo stop al petrolio russo. Però, quando si parla di embargo ai prodotti energetici della Russia, l'Europa fatica molto. Infatti, l'Europa si è divisa. C'è stato il nonetto da parte dell'Ungheria. Ci sono resistenze fortissime anche da parte della Slovacchia e della Bulgaria, nonostante l'Europa avesse concesso una proroga, diciamo, a questi paesi. E quindi la decisione, al momento, è rimandata. Ha tuonato il ministro degli esteri ucraino, Kuleba, ha detto che chi si oppone è complice di Mosca. Poi c'è tutta la partita che riguarda il campo, il terreno, dove le sirene antiaeree hanno risuonato questa notte praticamente in tutta l'Ucraina. Pesanti bombardamenti ancora sulle acciaierie a Zwovstal, a Mariupol, dove però il Ministero della Difesa russo fa sapere che da oggi a sabato scatterà un cessato il fuoco per permettere l'evacuazione dei civili. Poi, molte notizie da Mosca. Avete sentito il portavoce del Cremlino a proposito di un incontro tra Papa Francesco e il Presidente Putin a Mosca. Insomma, per il momento, diciamola così, non c'è traccia. E poi si continua a ripetere che il 9 maggio, la giornata della vittoria, Mosca non annuncerà alcuna guerra totale all'Ucraina. Poi c'è un'altra notizia che non è di poco conto perché le forze russe si sono esercitate nell'enclave di Kaliningrad in attacchi simulati, lanci simulati di missili che possono portare testate nucleari. Questo è un po' lo scenario complessivo ad oggi, settantunesimo giorno di guerra. Parleremo però di molte altre cose. Ci sono fibrillazioni, come sapete, nella maggioranza di governo, non soltanto per la questione guerra ed armi. E poi ci sono tutte le ricadute economiche. Do il buongiorno a Federica Fantozzi dell'Affiton Post, bentornata. Buongiorno. Bentornato all'ammiraglio Giuseppe De Giorgi, già capo di Stato Maggiore della Marina. Bentornato ammiraglio. Buongiorno. Collegati con noi saluto l'onorevole Rossella Muroni di Facciamo Eco. Bentornata. Buongiorno. Grazie, buongiorno. E saluto l'onorevole Valentino Valentini di Forza Italia. Bentornato. Buongiorno. Valentini, posso togliermi subito un dente? Lei lo sa, se ne è parlato molto in questi giorni. Ma lei è l'artefice dell'intervista di Lavrov su Rete4? La ringrazio della domanda. E le rispondo direttamente no. Le dico anche che ieri ho visto i miei avvocati per sporgere una querela nei confronti di Dago Spia. Trovo che sia molto grave diffondere notizie di questo tipo, per cui le rispondo no. E le annuncio anche che i siti di fake news legali, come Dago Spia, dovranno rispondere in tribunale delle loro affermazioni. Allora, adesso Roberto Agostino l'ha avvertito, diciamo, saprà come fronteggiare questi inizi. Non è avvertito, riceverà direttamente gli atti dai miei avvocati. Poi mi spiegherà lui. Trovo che sia molto grave, trovo che sia scorretto, poi andremo avanti. Sì, ma tutto questo nasce per ovviamente i suoi rapporti passati con Putin, il presidente Silvio Berlusconi. Forse da questo nasce, adesso poi la via giudiziaria seguirà la via giudiziaria. Attenzione. Prego. No, un conto sono i rapporti passati che tutti conoscono. Un conto è fare una calunnia. Quando vediamo che un'intervista controversa, poi potremo parlare, se vuole, dell'intervista, viene attribuita a un partito politico a un soggetto, per cui si vuole mettere una tesi per la quale saremo Forza Italia o noi. Mi scusi perché mi scaldo molto perché trovo questa calunnia oltraggiosa e molto grave. No, grazie mille, sì. Sottengono una reazione per la quale Mediaset e Berlusconi sarebbero, a parte che Mediaset fa la sua attività e vedo, se ha visto le trasmissioni di questi giorni, vedrà chiaramente come la genesi di questa intervista. Ma sottendere l'idea che Mediaset e Forza Italia sia un partito che si mette a disposizione per fare, come poi alcuni esponenti politici hanno detto, dei comizi e attribuirne poi la responsabilità direttamente a una persona, ritengo che sia una grave calunnia e per questo sono andato in tribunale, per fare totalmente chiarezza su questa vicenda. Dopodiché, se vuole, paghiamo... No, le posso fare una domanda... Per quanto riguarda il sottoscritto... Sì, no, scusi, lei ha fatto bene a fare questo chiarimento e sono contento perché poi le cose devono essere lineari. No, quello che le voglio chiedere, però dal punto di vista non solo di parlamentare ma di cittadino, no? Diciamo, mi pare che peraltro il ministro degli esteri Lavrov abbia concesso a un media occidentale diciamo tolta l'America, è stata la prima intervista credo, vado a memoria. Diciamo, lei è d'accordo con questa intervista? Cioè, ha fatto bene in questo caso Mediaset? Ma lasciamo perdere Mediaset a intervistare il ministro degli esteri russo? Prendiamo, allora, prendiamo il termine, prendiamo la questione in termini più generali. E qui ci troviamo un dibattito nel quale si sostiene che dare voce a esponenti direttamente del Cremlino costituisca una forma di propaganda perché gli italiani sarebbero fortemente influenzabili ma, a mio avviso, ritengo che sia più corretto. Uno, dare voce direttamente ai responsabili affinché questi se ne assumano la responsabilità politica. È meglio ascoltare dei pseudo esponenti del Cremlino che ne dicono la qualunque o ascoltare i responsabili direttamente e quindi pagano le conseguenze a partire dal rapporto con Israele e tutto quanto ne scaturito da questa intervista. Due, ritengo anche opportuno che ci sia un'esposizione nei confronti di ciò che pensa o può pensare un paese perché altrimenti se noi rimaniamo sempre chiusi su noi stessi, in una bolla, nella nostra bolla continuiamo a ritenere che ci sono delle follie, non riusciamo a capire che cosa sta accadendo, non riusciamo a capire che cosa avvenga dall'altra parte. La condanna nei confronti delle affermazioni, delle aberrazioni è fermissima, la posizione politica è chiarissima, ma per quanto mi riguarda io sono contro coloro che ritengono che è meglio ascoltare direttamente i responsabili, dopodiché esproniamo le nostre critiche e soprattutto se ne assumano le responsabilità di quello che dicono. Piuttosto che degli sconosciuti che si arrogano, cioè lei vuole ascoltare Dugin o una che non sapeva fino a tre giorni fa chi fosse Dugin che viene in televisione e gli spiega che cosa dice Dugin, è questo il dibattito. Non c'è dubbio che la voce di Lavrov è una voce più che ufficiale e più che autorevole vista dalla parte ovviamente della federazione russa. Facciamo così, è tardissimo, vado in pubblicità, poi riparto da te Federica perché insomma ha chiarito bene Valentino Valentini la posizione e ci ha offerto anche degli spunti, poi insomma abbiamo molte cose di cui parlare e da vedere, a tra poco. Allora vado subito a Federica Fantozzi, hai sentito insomma con grande chiarezza nelle parole di Valentino Valentini, come la vedi tu questa questione? Beh, non posso dare torto all'onorevole Valentini, nel senso che il ministro degli esseri russo è una fonte ufficiale, importante protagonista di questa guerra, io penso che qualunque emittente, qualunque giornale lo avrebbe intervistato. Poi da giornalista dico che, diciamo le cose come stanno, i giornalisti sfruttano qualsiasi contatto per avere le notizie, abbiamo stati intervistati nella storia Osama Bin Laden, l'Ayatollah Khomeini, perché non l'avro? Poi possiamo discutere di come sono fatte le interviste, quelle se le gioca il conduttore. Questo sta come dire alla competenza, all'esperienza, alla professionalità, alle scelte del singolo giornalista. Va detto che la Amanpour sulla CNN ha fatto un'intervista diversa a Pesco, va anche detto che noi che lavoriamo in Italia sappiamo che poi quando abbiamo delle interviste con le istituzioni sono centellinate, sono studiate, sono calcolate, quindi bisogna sempre trovarsi in quella situazione prima di giudicarla. Succede con i leader politici, figuriamoci in un contesto come questo con il ministro degli esseri russo. Comunque, per essere chiari, se a me proponessero un'intervista all'Afro non esiterai nemmeno un secondo. Certo. Allora, Ammiraglio, intanto le chiedo una cosa, perché tutti aspettiamo questo 9 maggio come il D-Day di questo conflitto. Abbiamo sentito, insomma, in queste ore il Cremlino ha smentito che ci sarà un annuncio di guerra totale nei confronti dell'Ucraina. Ha parlato stamattina il vicepresidente della Commissione difesa del Parlamento russo della Duma che ha detto che sono un'assurdità le voci, riportate dai media occidentali, viene sottolineato, secondo le quali il 9 maggio il Cremlino dichiarerà la mobilitazione generale per la guerra in Ucraina. Peraltro, diamo anche l'altra versione, fino a qualche settimana fa si diceva che il 9 maggio potrebbe essere l'annuncio della fine della prima fase di questa guerra. Era più una pie illusione, forse, da parte nostra. Come la pensa? Io ricordo solo che Lavrov pochi giorni prima dell'invasione smentiva categoricamente che i russi sarebbero entrati in Ucraina, quindi sulle smentite russe diciamo che le prenderei tutte sempre con una certa prudenza. Dopodiché, sì, è possibile che ci sia la proclamazione, immagino che ci sia la proclamazione del termine della prima fase, perché comunque una prima fase c'è stata e il Cremlino cerca di raccontarla come se fosse stata tutta pianificata in quel modo, è evidente che l'attacco verso Kiev non era così solamente per fare un depistaggio, era nella visione iniziale di quello di dare la spallata all'Ucraina, che si immaginava non avrebbe poi resistito come ha fatto, di far cadere il governo. Quando questo non è accaduto si è riconfigurato il tutto concentrando le forze a est e quindi cercando di limitare i danni, i problemi dovuti alla logistica estesa eccetera. Quindi quello ci sta che ci sia una combinazione delle due, cioè che ci sia da una parte l'annuncio della prima fase che è finita perfettamente e l'avvio della seconda e nell'ambito di questo racconto sull'avvio della seconda ci sia comunque un'empatizzazione di questa seconda fase. E voglio chiedere un'altra cosa perché in queste ore sono in corso le esercitazioni militari in Bielorussia, il paese diciamo satellite della Russia e l'intelligence britannica che è molto informata e molto attiva ha fatto sapere che queste esercitazioni non costituirebbero una minaccia per l'Ucraina, però la Russia è come se volesse far credere a Kiev che c'è invece, che questo rappresenta una minaccia, in modo che non sposti le forze da quella parte a nord del paese nella parte est del Donbass dove invece ci sono furiosi combattimenti. È verosimile questa... Sì, questo direi che è proprio verosimile, anzi è molto probabile che sia così, nel senso di proprio evitare che gli ucraini possano concentrare a loro volta le loro forze verso il fronte, che tra l'altro è un fronte di 900 chilometri di estensione quindi è estremamente difficile da presidiare nella sua interezza e lo è anche per i russi insomma, però dal punto di vista del difensore ecco il presidio costante e continuo del fronte è più difficile se parte delle forze e di alta qualità debbano rimanere poi vicino a Kiev. Adesso poi le farò un altro paio di domande, visto che lei appunto è un esperto e ci aiuta a decifrare la situazione sul campo. A proposito di campo, adesso coinvolgo anche l'onorevole Muroni, voglio farvi vedere però questa testimonianza, questo reportage di Francesca Mannocchi, la nostra Francesca Mannocchi che ci racconta la situazione a Kherson, che è occupata dall'esercito russo insomma da molto tempo, da diverse settimane e Francesca Mannocchi ha incontrato i civili, le persone che cercano di fuggire. Vediamo. Kherson era scoperta, non ci aspettavamo una guerra su larga scala per questo i nostri uomini in quel momento erano necessari a Kiev e Kherson è rimasta priva di difesa. Kiev è il cuore del paese, era l'unica scelta possibile in quel momento. Oleksandr Lonko è tenente della 17esima brigata delle forze di terra del comando operativo dell'esercito ucraino nel sud del paese. Coprono nove regioni tra cui Odessa, Zaporizia, Mikolaiv e appunto Kherson la prima grande città a essere occupata dall'esercito russo dai primi giorni di marzo. Ci arrivano notizie drammatiche dall'interno, dice ragazzi portate in Crimea per servire l'esercito russo. Stiamo cercando in tutti i modi di evacuare chi prova ad uscire ma non sempre riusciamo. La base militare dove incontriamo il tenente è sulla strada tra Kiri Viri e Kherson. Non possiamo rivelare il punto esatto perché le forze armate hanno timore di essere localizzate. All'esterno una lunga coda di auto arrivano da Kherson, sono scappati. Irina Ieremenko e la sua famiglia sono riusciti a uscire oggi dopo cinque tentativi. La sua testimonianza conferma le informazioni in possesso dell'esercito. Hanno sostituito la grivna con il rublo, dice stanno facendo arrivare i prodotti russi dalla Crimea. Nessuno di noi però ha accettato di comprarli. Preferiamo morire di fame che comprare un solo prodotto degli occupanti. Irina è in auto con i figli, confermano le voci circolate nei giorni scorsi sulla possibilità di un referendum a Kherson per l'indipendenza dall'Ucraina. Ne hanno parlato per giorni, dice, doveva tenersi il 27 aprile, poi tutto è sfumato, ma si stanno organizzando per la parata del 9 maggio. Non volevamo assistere a questo ennesimo oltraggio della nostra città. Ci allontaniamo sulla stessa strada che Irina ha percorso con la sua famiglia per raggiungere le postazioni ucraine. Siamo in una delle postazioni dell'esercito ucraino sulla strada tra Criviri e Kherson e queste, alle mie spalle, sono le trincee dove vivono per difendere la posizione qui, a nord di Kherson. Vivono qui i soldati chiamati a difendere le posizioni a nord di Kherson. gestiscono il labirinto di trincee che formano la spina dorsale di posizioni difensive che si estendono per decine di chilometri. Il legno a coprire le trincee fangose dei posti di osservazione in cui i soldati fanno turni per avvissare i movimenti delle truppe russe. Ior, a distanza qui, ha combattuto in Donbass nel 2014. Ior difende le posizioni della regione di Kherson. Le truppe russe si sono rafforzate, dice, ne abbiamo evidenza. Stanno usando più droni, sono più aggressivi. Significa che sono arrivate rinforze che dobbiamo aspettarci che avanzino. Siamo pronti a difenderci, ma avere armi difensive non basta a vincere una guerra. Oh, con le armi difensive non si vince una guerra. Onorevole Muroni, lei dove si iscrive? Tra coloro che dicono no, non si possono mandare carri armati, armi letali agli ucraini? Beh, io sono come tutti preoccupata per una possibile escalation. Continuo a pensare, anche se con grande sofferenza etica, che vanno sostenuti anche sulla resistenza. Quindi questa distinzione inizia a diventare, come dire, anche un po' ipocrita, in qualche maniera. Questo è il mio pensiero. Sinceramente invidio chi ha la certezza in mano, chi parla di questo tema con certezza assoluta. Io non mi sarei mai aspettata di trovarmi a decidere, a votare in Parlamento una cosa del genere. Penso che le voci che ci arrivano da quei territori, i racconti anche della bravissima Mannocchi, in qualche maniera ci devono anche aiutare a ragionare di quello che sta accadendo realmente. Non è la cartina che vediamo, no? Sono persone, sono storie, sono territori distrutti. Quello che mi preoccupa veramente è che tutti noi vogliamo il cessato al fuoco, vogliamo la pace, la ferita che si è creata in quel territorio, le generazioni che verranno porteranno avanti l'odio, io credo, in maniera profonda. E questa forse è la ferita anche più preoccupante, più terrorizzante per il futuro. Ammiraglio, questa distinzione armi offensive e difensive, che cosa è? Fittizia? Beh, fittizia è assolutamente priva di senso. Qualunque arma può essere offensiva o difensiva, secondo la finalità con cui la si impiega. Un carri armato che è posto a difesa di una postazione è difensivo. Se uno immagina anche uno scudo e una sciabola, lo scudo è difensivo fin tanto che sei fermo sulle tue posizioni. Quando vai all'assalto lo scudo fa parte di un kit di equipaggiamento che serve all'attacco, insomma. Quindi è una cosa un po' pelosa. In questi giorni assistiamo alle notizie che arrivano dal campo al fatto che i militari russi stanno intensificando gli attacchi, per esempio su sei snodi ferroviari, cioè tutte quelle vie di transito per le armi che l'Occidente sta fornendo all'Ucraina. Il Pentagono però ha fatto sapere che questi ultimi attacchi missilistici dei russi contro insomma delle infrastrutture importanti del paese e dell'Ucraina non hanno influito sulla capacità appunto di Kiev di ricevere il supporto militare e gli aiuti peraltro continuano ad arrivare. Faccio una domanda anche rispetto a questo aspetto. Cioè la Russia si sta concentrando su questi obiettivi. Peraltro l'altro giorno ha detto attenzione, noi considereremo un obiettivo legittimo anche un convoglio Nato che in Ucraina portasse le armi. Sì, una volta che il convoglio è entrato in Ucraina è evidente che la Nato non sarebbe più direttamente interessata, non è la Nato che trasporta materialmente gli equipaggiamenti. Intanto, ecco diciamo. I ragionamenti arrivano oltre i confini e poi gli ucraini si incaricano di prelevarli e portarli. Quindi una volta che sono dentro sono in mano ucraina e quindi non è che questo deve destare particolare stupore o sorpresa. Voglio chiedere un'altra cosa a Valentino Valentini perché noi abbiamo visto qual è la posizione del Movimento 5 Stelle, del Presidente Conte a proposito poi della richiesta reiterata a Draghi di andare in Parlamento per riferire sulla posizione insomma al di là adesso delle armi del governo italiano in questa guerra. Abbiamo visto che anche Matteo Salvini diciamo in questi ultimi giorni si è posizionato in maniera un po' differente rispetto alle decisioni iniziali. insomma dice io non so neanche a chi arriveranno queste armi. La posizione di Forza Italia qual è Valentini? È ferma di sostegno alla linea del governo. Abbiamo votato con difficoltà sicuramente perché per nessuno è una decisione facile. Abbiamo assunto una decisione in questo momento di importanza è la coerenza e la compattezza. Chiarissimo. Poche parole che però ci fanno capire bene qual è la posizione anche di Forza Italia dicevamo ci sono molte fibrillazioni torno da Federica Fantossi che segue quotidianamente la politica perché una cosa sono le fibrillazioni rispetto appunto alla guerra agli armamenti che l'Italia sta fornendo insieme agli altri paesi europei all'Ucraina. Poi però scoppia la bagarre sul termovalorizzatore di Roma sul super bonus dove Draghi parlando all'Europarlamento insomma fa capire che se fosse per lui lo cancellerebbe domani quel provvedimento. Ma allora sì, sono secondo me due questioni diverse. Scusami, aggiungo una cosa che non è di dettaglio e che Conte ieri ha detto qualcuno vuole spingerci fuori dal governo. C'è la stessa frase che ha detto Salvini qualche mese fa cioè ci sono delle, hai ragione tu, al di là della guerra del merito ci sono delle indubbie fibrillazioni politiche. Ma perché si avvicinano alle elezioni? Diciamo che tra i 5 Stelle e la Lega ci sono delle fibrillazioni di cui possiamo dare un'interpretazione massimalista è quella che si voglia staccare la spina e arrivare al voto a settembre prima delle elezioni previste. Oppure un'interpretazione minimalista cioè che a giugno ci sono le amministrative che saranno fondamentali sia per i rapporti di forza e le alleanze ma anche per vedere se si può fare una nuova legge elettorale e quindi ci sono queste spinte. La questione di Draghi un po' vuol dire io non medio più, mi sono stufato non vi do retta come farà forse sul catastro. Però va detto che la storia del super bonus è un po' particolare perché è il caso di un provvedimento anche importante voluto dal governo comunque dalla maggioranza spinto da una parte ma varato che però viene continuamente sabotato autosabotato con stop and go allora Draghi ha... Però per evitare anche le truffe che ci sono state. Ma Draghi ha sicuramente delle ragioni sicuramente sia sul lato delle truffe e soprattutto sulla questione dei prezzi gonfiati ma nel momento in cui tu hai varato almeno per il 2023 uno strumento che è partito che ha portato dei lavori delle imprese degli investimenti Conte ha detto in maniera un po' insomma forte ha detto Draghi si è vantato con l'Europa del nostro PIL lo scorso anno e parte di questo PIL dice Conte è dovuta al super bonus no Muroni? Sì è così ma infatti come dire io sono rimasta colpita dalle dichiarazioni di Draghi peraltro in quel momento noi eravamo in aula con Cingolani che ci raccontava le misure sul caro energia e io dicevo a Cingolani non stiamo lavorando abbastanza sull'efficienza energetica il super bonus è una misura di efficienza energetica è una misura che ha consentito ai cantieri di ripartire quello che non va bene è questo continuo stop and go perché le imprese sono disperate non hanno più come dire contezza del quadro normativo anche le banche che continuiamo a cambiargli le banche ugualmente c'è il famoso cessione di credito che è diventato un mistero sostanzialmente non si può fare così è proprio è altamente irresponsabile sulle truffe fatemi dire perché anche lì Draghi ha fatto una conferenza stampa con Franco hanno dato dei numeri sulle truffe poi se vai a vedere quei numeri vedi che le truffe sono legate soprattutto al bonus facciate lo dico da ambientalista lo dicevamo da quel dì che quel bonus era fatto male i bonus vanno legati alle performance ambientali e io avevo proposto anche di legarlo per esempio a tutto il tema dell'edilizia pubblica ora lo possiamo modificare ma noi dobbiamo dare una certezza temporale perché se no così come dire veramente mettiamo in difficoltà cittadini imprese investiamo soldi e sicuramente non era il caso di andare a dire in Europa che quella misura lui non la condivide anche perché faccio notare che l'Europa invece aveva sottolineato come proprio quella misura fosse una come dire delle cose più valide delle proposte più valide che stavano arrivando dall'Italia che ha avuto l'apprezzamento dell'Europa devo andare in pubblicità è tardissimo un flash però ancora con l'onorevole Valentini voi sulla questione super bonus come la pensate? ma io sottoscrivo le parole che sono appena state espresse noi riteniamo che il super bonus sia stato necessario e non è necessario il presidente Berlusconi ripete sempre con le batimont va tu va cioè come l'edilizia sia un po' il motore dell'attività economica certamente ci vale una certezza nei tempi ci vuole una certezza per gli operatori economici perché altrimenti si crea soltanto confusione se vi sono poi distruzioni o correzioni da portare vanno apportate ma non in corso d'opera o continuamente creando incertezza nel mercato allora vado in pubblicità ripartiamo a proposito già questi argomenti ci portano su un terreno economico poi torniamo su tutta la questione guerra in Ucraina perché ci collegheremo più tardi con una giornalista Ucraina intanto dopo la pubblicità vediamo qual è il groviglio complessivo per la nostra economia tra poco ma in matassa fu più difficile da sbrogliare confonde disorienta impaurisce sono pessimi grovigli guerra pandemia e il terzo le conseguenze l'abbiamo capito per quanto può essere organizzato e razionale chi tesse le maglie saranno strettissime transizione energetica lavoro risparmio conti pubblici fisco pensioni farci passare in mezzo tutto è impossibile chi viene prima le famiglie o le imprese ora sono insieme l'Italia è un unico nucleo che vive nello stesso condominio nel quale il prossimo inverno rischia di fare freddo meglio convivere da buoni vicini il governo ha stanziato come si sa fino a 14 miliardi di euro di aiuti niente scostamento di bilancio per un paese indebitato come il nostro sarebbe pericoloso e allora usciranno anche dall'aumento dal 10 al 25% della tassazione dei profitti extra delle grandi imprese dell'energia del resto quella partecipata dallo Stato e indirettamente da tutti gli italiani Leni per esempio ha guadagnato un miliardo in più al mese da gennaio la misura è quindi moralmente inevitabile e non solo per lei certe cifre in bolletta potevano comunque essere scontate prima molte imprese e famiglie hanno sofferto più di quanto ora potranno recuperare i rincari cominciarono sei mesi fa poi sono andati fuori controllo storia nota L'importo degli aiuti a imprese e famiglie è il doppio di quanto previsto a seconda i sindacati conferma il taglio delle accise fino a luglio e prevede un bonus da 200 euro per 28 milioni di italiani anche pensionati e autonomi una tantum molto ristretta a fronte dei 3.000 euro stimati di spesa in più a famiglie con una probabile terza recessione in arrivo tutto all'indomani di un primo maggio che ha festeggiato un lavoro definito povero per 3 milioni gli stipendi sono troppo bassi giovani, donne, sud eppure l'Istat ha riportato un tasso di occupazione praticamente al 60% record ma di quantità il lavoro un po' c'è ma un po' ci fa ormai diversi la sua qualità è trasformata adeguata a tempi in cui si produce a chiamata precariamente di notte oppure quando arrivano le materie prime se no che stai aperto a fare gioca un ruolo in questa qualità che non può non prevedere il reddito da lavoro l'inflazione più che erodere i salari ormai li corrode si ragiona di quelli minimi ma il problema da noi sono quelli medi non sono paragonabili diranno alcuni che la colpa è della guerra della pandemia no anche questa matassa c'era già ecco con Marco Fratini per fare il punto complessivo della situazione non soltanto italiana ma in questo caso abbiamo focalizzato l'interesse sul nostro paese perché ci sono moltissime incognite torno un attimo dall'ammiraglio allora ammiraglio una cosa che le volevo chiedere come pensa si evolverà il conflitto la domanda potrebbe essere quanto pensa durerà questo conflitto direi che durerà a lungo inevitabilmente perché il fronte è estremamente esteso e le forze in gioco non sono al momento tali da immaginare uno sfondamento diciamo del fronte ci sarà quello che appare un'avanzata lenta dei russi che continueranno con questo approccio sistematico di distruzione massiccia di tutto quello che c'è davanti al fronte mentre non lasceranno diciamo respirare le città ucraine in generale quindi manterranno la pressione ovunque possibile con i missili e cercheranno di appunto andare io ritengo anche verso Odessa e verso la Trasmissione possiamo dire così che il mar Dazov è già diciamo sotto il controllo russo devono conquistare il mar nero lì a Odessa l'accesso al mare quello sarebbe veramente una svolta vittoriosa per il Cremlino che a quel punto potrebbe proclamare di aver messo dato scacco matto insomma all'Ucraina perché a quel punto la ingabbia all'interno magari ecco qui lo vediamo bene collegandosi dal punto di vista terrestre il corridoio con la Trasnistria con la Trasnistria esattamente quindi a quel punto l'Ucraina rimarrebbe senza accesso al mare quindi con il crollo di tutta la possibilità di gestire le sue esportazioni Odessa è il porto fondamentale e non solo ma con una possibile avanzata fino al fiume Dnieper i russi arriverebbero a controllare una fetta importante dell'Ucraina il resto rimarrebbe nella visione russa un'Ucraina diciamo neutrale e in uno stato sostanzialmente soggiogato insomma rispetto alle notizie che arrivano mi pare che questa sia un po' nella mente dei russi la strategia intanto poco fa io prima vi davo notizia dell'annuncio da parte russa di un cessato del fuoco da oggi a sabato a Mariupol per fare evacuare i civili poco fa arriva la notizia che c'è una pioggia di bombe nuovamente sulla acciaieria Azovstal c'è un inferno dice il consigliere del sindaco della città citato dalla CNN intensi attacchi sull'acciaieria non si sono fermati per tutta la notte stanno continuando quindi anche qui come dare credito agli annunci della Russia di un possibile cessato del fuoco no Ammiraglio? Sì lo stesso Putin aveva annunciato proprio per l'acciaieria come no? aveva detto no basta adesso li circondiamo teniamo tutto sotto controllo ma non andremo poi ad attaccarli basta finita così non deve uscire una mosca non deve uscire una mosca non deve uscire una mosca però ha detto che questa era alla fine la missione che si erano dati per l'acciaieria quasi lasciare un enclave mi dice ancora una cosa sulla scena di queste considerazioni ma stanno arrivando armi sufficienti per perché gli ucraini possano difendersi e soprattutto che tipo di armi? In questo momento servirebbero massicciamente i carri armati pezzi di artiglieria con anche radar per fare il tiro di controbatteria cioè radar che sono in grado di capire da dove provengono i tiri di artiglieria russi e questo francamente non so la quantità che arriva perché comunque sono materiali ingombranti e logisticamente complessi da far arrivare i russi hanno attaccato la rete ferroviaria e lo fanno sempre più spesso in Ucraina proprio per rendere le linee di comunicazione interne le più impervie possibili Certo Allora facciamo così adesso ci torniamo su questi temi tra poco sarà collegata con noi Katia Osatska che è una giornalista ucraina Paolo Sottocolona buongiorno Buongiorno sono arrivate un po' di nuvole come vedete hanno coperto ormai quasi tutte le regioni risparmiando soltanto alcune zone del sud l'avanzata è stata abbastanza rapida al momento le precipitazioni ci sono soprattutto sul nord ovest e sulle regioni tirreniche Sardegna vediamo nel complesso della giornata di oggi le piogge previste come vedete mancano al sud dove le nuvole appunto ci sono ma non tante piogge la zona più intensa è quella di nord ovest ma anche con l'Emilia Romagna la Toscana in parte la Sardegna dove vedete le piccole macchie gialle significa precipitazioni particolarmente abbondanti quindi o piogge insistenti o anche qualche qualche temporale più deboli ma comunque presenti i fenomeni sulle regioni centrali domani comincia a cambiare questa c'è una una fase intanto di estensione del maltempo seppure in prevalenza debole al sud ancora piogge moderate al centro ancora precipitazioni spesso molto estese almeno moderate al nord un po' meno sul nord-est e poi guardate questa zona dove c'è proprio il centro della bassa pressione che determina tutto sulla Sardegna e sulla Corsica fenomeni particolarmente intensi nella giornata di sabato migliora un po' al nord ci sono delle schiarite ci sono ancora sulla parte centro-orientale soprattutto sul Friuli Venezia Giulia ancora fenomeni intensi qualche schiarita o comunque un'attenuazione dell'intensità dei fenomeni al centro e al sud invece spostandosi il centro della bassa pressione dalla Sardegna alla Sicilia abbiamo ancora questo maltempo piuttosto piuttosto marcato volevo farvi vedere una foto anche interessante come origine questa è una scultura la scultura si chiama Marco Martalar ed è fatta con i residui della tempesta Vaia del 2018 tutti gli alberi abbattuti sono stati presi recuperati con questa bellissima scultura che resterà lì piano piano il legno si macererà e quindi tornerà chiude un po' il ciclo però mi sembra anche se nasce da una cosa terribile una cosa brutta però insomma è anche per ricordarlo insomma ecco grazie e allora intanto va bene allora ci colleghiamo tra poco con Katia Osacca andiamo in pubblicità Allora sta parlando il commissario dell'affare economici Gentiloni che ha detto a proposito della questione con cui abbiamo cominciato stamattina le nuove sanzioni alla Russia lo stop al petrolio Gentiloni ha detto arriveremo a un percorso comune sull'embargo al petrolio aggiungendo però che è difficile superare la questione dell'unanimità del veto in questo caso posto dall'Ungheria poi dice un'altra cosa Gentiloni a proposito della Russia dice l'Unione Europea è un fattore di stabilità e di pace Mosca non ha mai apprezzato fino in fondo l'Unione Europea ed il suo ruolo ed ha sempre preferito dialogare con i singoli paesi da molti anni diciamo a prescindere da questo periodo da questa fase di guerra vado da Katia Osachka che ringrazio e saluto buongiorno benvenuta buongiorno 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 all'Italia grazie Katia Osachka lavora per la televisione One Plus One uno più uno insomma in Italia si direbbe le voglio chiedere una cosa a proposito delle sanzioni a proposito del possibile stop al petrolio russo il ministro degli esteri ucraini ha detto chi si oppone è complice di Mosca è forte come dichiarazione io credo che tutta l'Europa debba essere forte in questo senso va capito che è la strada diretta fra il petrolio russo e le bombe che vengono lanciate contro l'Ucraina i vostri soldi vanno alla Russia per la guerra e questa guerra tremenda è una grandissima opportunità per tutta l'Europa per tutto il mondo di fare parte di tutto ciò si tratta di un nuovo mondo tutti devono capire che questa può essere un'opportunità di separarsi e liberarsi dal petrolio russo e sono sicura che sono molte le decisioni da prendersi e ci sono molte opportunità però per operare in questo senso nel contesto delle tante questioni che riguardano questo conflitto si è molto ragionato sulla data come lei sa prossima del 9 maggio la giornata della vittoria dell'Unione Sovietica sui nazisti lei che pensa di annuncio potrebbe fare Putin per questa data? non è che abbiamo tanta paura perché gli ucraini al momento non hanno paura praticamente di nulla ma ci sono molte cose che pensiamo possano verificarsi il 9 maggio gli ucraini hanno combattuto contro i nazisti nella seconda guerra mondiale un giorno di vittoria e non ci saremmo mai immaginati che in questa stessa giornata avremmo combattuto contro la Russia e non so cosa ha Putin in testa in quella testa malata noi riteniamo che lui dovrà annunciare una qualche vittoria per la Russia lo possiamo capire diranno probabilmente che sarà una guerra vera a quel punto non sanno più l'operazione così come la chiama lui e dirà a questo punto è una guerra vera noi però non siamo in grado di anticipare quale potrebbe essere l'annuncio o la dichiarazione che farà non capiamo ma ci auguriamo veramente che non sarà una guerra che non ci saranno più razzi che non ci saranno non ci sarà un'ulteriore invasione oltre a quello che sta verificandosi già adesso le volevo chiedere un'altra cosa perché questa è una fase di offensiva russa molto intensa dicevamo le sirene sono risuonate praticamente in tutta l'Ucraina tra questa notte e l'alba di oggi continuano pesantissimi i combattimenti e i bombardamenti nel Donbass ma anche a Mariupolo sull'acciaieria dal suo punto di vista qual è la situazione diciamo della popolazione ucraina sappiamo che molti civili anche combattono però qual è la situazione in questo momento c'è scoramento diciamo c'è molta preoccupazione c'è rassegnazione che atteggiamento che tipo di situazione lei riscontra nella popolazione siamo un paese molto coraggioso i nostri civili la nostra popolazione è molto coraggiosa vogliamo combattere contro la Russia e l'atteggiamento prevalente in ciascun ucraino è combattere contro il male tutti ovviamente sono stanchi tutti quanti siamo scioccati eravamo scioccati e siamo scioccati l'Ucraina è un paese abbastanza grande abbiamo Mariupol da una parte che praticamente non esiste quasi più abbiamo civili che sono stati evacuati da Mariupol 200 civili sono stati evacuati e l'atteggiamento di queste persone è quello di continuare a combattere perché non possiamo tornare indietro non possiamo consegnare il paese alla Russia e c'è una cosa da capire stiamo combattendo da più di 70 giorni e ogni giorno che passa ci rendiamo conto che non possiamo più fare marcia indietro che non possiamo tornare indietro e consegnare loro la nostra terra è la nostra terra non siamo noi che siamo andati e abbiamo portato avanti la guerra è arrivata la Russia con la guerra nel nostro paese sulla nostra terra e noi combattiamo per ogni piccolo pezzetto della nostra terra per cui l'atteggiamento principale di ogni Ucraino è quello di combattere e combattere contro la Russia chiarissimo Valentini è qui da un punto di vista diciamo di cose che succedono sul campo insomma mi pare siano abbastanza purtroppo chiare dal punto di vista della diplomazia mi pare che tutto è completamente fermo si è molto parlato in questi giorni appunto del possibile viaggio di Papa Francesco a Mosca sappiamo che il presidente turco Erdogan spinge fa pressing perché si riapra un qualche tavolo di trattativa qualcuno continua a tirare in ballo la Cina dicendo la Cina dovrebbe essere parte attiva ma mi pare che da questo punto di vista non c'è alcuno spiraglio come la vede? Per il momento prevarrà ciò che accade sul terreno quando c'è l'hard power soft power l'hard power prevale in questa fase molto più lenta siamo entrati come diceva bene l'ammiraglio in un tentativo di sfondamento che non sta dando risultati è ovvio fin tanto che la Russia non sarà frustrata o avrà raggiunto gli obiettivi che dice di ponersi e sono molto probabilmente cercare di avere tutta la costa fino alla Transnistria riuscire quindi a avere anche una proiezione maggiore sul Mar Nero l'offensiva andrà avanti in questo momento vediamo che d'altra parte la forte resistenza e gli aiuti che si stanno dando all'Ucraina seguono proprio per cercare di da un lato frustrare questo tentativo e renderlo meno possibile perché se noi avessimo così tenuto le braccia a concerto avessimo guardato l'annientamento come tutti pensavano dell'Ucraina in una settimana la diplomazia sarebbe entrata in gioco ma non avremmo certo ottenuto i risultati che noi speriamo che sono quelli che si giunga quanto prima a un accordo di pace determinato però da una situazione sul campo che non sia l'annientamento dell'Ucraina Sì lo chiedo anche all'onorevole Muroni cioè qui capire come tentare un approccio che dia qualche risultato concreto è difficilissimo peraltro c'è un pressing anche da quella parte diciamo di paese di politica che non vuole un escalation cioè il tentativo di dire l'Italia si dovrebbe un po' affrancare rendere più indipendente per esempio dalla Nato e quindi diciamola così dagli Stati Uniti e però io penso eh prego penso che noi ci dobbiamo rendere indipendenti innanzitutto dai dittatori lo dico così nel senso che la vicenda energetica in questo è centrale l'ho detto l'ho detto anche in aula io mi preoccupo del fatto che noi stiamo diversificando la nostra dipendenza in questo momento il gas che prendiamo dalla Russia lo stiamo sostituendo con gas che arriva non da democrazie ma da altri dittatori quello che invece noi dovremmo fare è rendere indipendente il nostro paese dalle energie rinnovabili perché questo sì ci aiuterebbe ad aiutare gli ucraini indebolendo la Russia dal punto di vista economico e noi sappiamo che in questo momento siamo molto esposti ma non possiamo sottostare a questo ricatto quindi da subito il nostro paese dovrebbe accelerare sul fronte delle rinnovabili perché questo sarebbe davvero importante dimostrare che l'Europa non sottostà al ricatto di Putin sul fronte energetico Federica dicevo anche l'Europa appare irrilevante in tutto questo relativamente diciamo che le parole della giornalista ucraina mi hanno colpito e sono parole molto coraggiose e fanno anche un po' di chiarezza su quello che è il grande dubbio etico che abbiamo noi perché nessuno invia le armi a cuor leggero e si dice ma come mandiamo le armi a un popolo prolunghiamo sostanzialmente la sua agonia visto che comunque Putin è prevale però se c'è un popolo che si stringe intorno al suo presidente e che dice noi vogliamo resistere fino all'ultimo è una sua decisione io trovo eticamente corretto sostenerla e questo già è un punto importante anche perché ha ragione l'onorevole Muroni la dipendenza energetica cioè questa guerra ci ha mostrato tutto sommato il fallimento della politica che è stata anche di una politica non sprovveduta come la cancelliera Merkel cioè quella di fare business con Putin perché il business si può fare e diciamo caliamo un velo però forse abbiamo anche l'illusione che facendo questo business Putin se ne stesse tranquillo appunto adesso non è così e anche l'ipotesi che conquisti tutto l'accesso al mare rendendo l'Ucraina isolata e neutralizzata come neutrale come diceva l'ammiraglio beh non ci lascia tranquilli non lascia tranquilli gli ucraini perché sei mesi dopo c'è un altro attacco e non c'è più l'Ucraina ma non lascia tranquilla nemmeno l'Europa quindi l'Europa è marginale forse io dico che il consiglio di Nizza quello sul recovery che oggi impallidisce durò cinque giorni nessuno avrebbe scommesso su quel varo e invece c'è stato quindi forse si può anche avere un po' più di fiducia e pensare che nel momento di crisi ci possa essere un cambio di governance importante voglio chiedere un'ultima cosa a Katia Osachka ringraziandola ovviamente per la sua partecipazione ma dal suo punto di vista adesso sappiamo come stanno andando le cose sul terreno quindi è prematuro parlarne ma per un accordo onorevole tra Ucraina e Russia che cosa dovrebbe contemplare questo accordo? Quello che io penso possiamo vederlo in qualsiasi accordo non lo vediamo in realtà un accordo perché si tratta di fare un accordo con dei terroristi arrivano razzi ogni singolo giorno sul nostro paese se si vuole concludere un accordo se qualcuno vuole fare la pace prima bisogna smettere di bombardare civili smettere di lanciare bombe e razzi e bisogna smettere di trasferire civili in Russia bisogna smettere di uccidere civili io sono una giornalista ma sono una donna ucraina che è molto pacifica con dei figli e veramente non capisco come possiamo fare un accordo con il diavolo o con il male che ci sta bombardando quello che dobbiamo fare l'Europa si deve unire e non combattere ma si deve rendere conto che noi stiamo cercando di raggiungere un accordo un documento di pace con qualcuno che invece sta uccidendo un intero paese e facendo morire i civili chiarissimo Mirta buongiorno buongiorno Andrea allora mentre come sentiamo anche nelle parole di questa giornalista ucraina in Ucraina infuriano le bombe la Russia fa una simulazione con un missile nucleare a Mariupol la battaglia sempre più drammatica e bene in Italia si parla dei talk show e si parla del Copasi che deve decidere se i russi possono o non possono andare in televisione qui da noi insomma un dibattito un filino surreale francamente con noi ovviamente tutti i nostri inviati dal terreno oggi è molto importante raccontarvi quello che sta accadendo sul campo ma ancora Marco Damilano Mimmo De Masi Augusto Minzolini Fulvio Grimaldi giornalista di lunghissimo corso grande inviato che per oggi ha delle idee che fanno molto discutere e ancora Nathalie Tocci proprio quella che ha scritto Noti My Name non voglio più mettere piede in televisione con russi rapagandisti ancora Giorgio Gremaschi Antonio Caprari Alberto Forchielli arriva anche Monio Vadia che come sapete l'altra sera al Teatro Oghione ha fatto un intervento durissimo sull'Ucraina siamo qui che vi aspettiamo con molte notizie e molti commenti grazie io ringrazio Federica Fantozzi grazie all'ammiraglio De Giorgi grazie all'onorevole Muroni all'onorevole Valentini grazie per la sua testimonianza a Kate Osachka dall'Ucraina con cui speriamo di collegarci anche nei prossimi giorni nelle prossime settimane vi lascio all'area che tira ci vediamo domani stessa ora stesso luogo grazie 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 grazie